Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video un po' particolare, che in realtà girerò in più sedute, una sorta di reading vlog leggendo alcuni libri della longlist del Women's Prize che mi ispiravano. È tutto partito quando è uscita la longlist e mi sono accorta di possedere già in forma di ebook due libri candidati, per la precisione Careless di Kirstie Capes e Sorrow and Bliss di Mac Mason. Da lì ho pensato perché non creare una sorta di shortlist personale leggendo le cose che mi ispirano e vedendo se ci becco o no quando esce la shortlist, ovviamente è finire. Ed effettivamente la shortlist è uscita oggi e ho beccato uno, due, ben tre libri, quindi sono molto soddisfatta, ma vediamo cosa ho combinato. Il primissimo libro che ho letto è Sorrow and Bliss, che credo dovrebbe uscire in italiano. Non so bene i dettagli, ma la me del futuro cercherà le informazioni e le metterà da qualche parte. Questo libro è molto interessante secondo me perché anche se il tema è abbastanza potente e anche potenzialmente triggerante ecco perché si parla comunque di salute mentale, io l'ho trovata una lettura estremamente coinvolgente, a tratti anche divertente quasi, perché siamo di fronte a Martha che incontriamo alla soglia dei 40 anni nel momento in cui il suo matrimonio praticamente è finito. E da questo momento lei decide di usare la scrittura per guardarsi indietro, per ripercorrere un po' tutta la sua vita, che appunto è caratterizzata da un certo punto in poi da questo fil rouge dato da questo disturbo che lei ha, da questa sorta di depressione, per cui non abbiamo mai una vera diagnosi, non abbiamo mai un nome, hai questo, hai quest'altro, che però ovviamente puntella tutta la sua vita, come dicevo dall'adolescenza in poi. Martha è una scrittrice ed è chiaro il suo talento nella scrittura nel momento in cui ci racconta la sua storia, ripercorre il rapporto con i genitori che sono un po' particolari diciamo, c'è questa madre scultrice però non particolarmente quotata che ha un atteggiamento molto di distacco in un certo senso, un padre affettuoso ma in pratica è una sorta di poeta fallito perché da giovane aveva scritto una poesia che era stata pubblicata su New Yorker, gli era stato fatto questo anticipo incredibile per un'antologia e da lì mai più scritta una riga, quindi c'è questo anche conflitto fra i genitori in cui sì insomma la madre non è molto carina nei confronti del padre eccetera. La sorella minore di Martha Ingrid è un tipo di persona completamente diversa, è super esuberante, iperattiva mi viene da dire, si sposa e comincia a fare un figlio dietro l'altro, quindi fa un tipo di vita completamente diverso da quello di Martha che periodicamente si ritrova ad essere bloccata da questo suo problema. L'aspetto che mi è piaciuto di più è proprio vedere come viene trattata la malattia mentale dai vari specialisti che le incontra, quando è adolescente viene in un certo senso tacciata di semplicemente essere un'adolescente, non viene veramente ascoltata. Il medico parla con il padre invece che direttamente con lei come se una persona pur giovane non potesse come dire prendere le redini della propria salute mentale e così avanti di medico in medico, le vengono dati alcuni farmaci, questi farmaci poi vengono cambiati, lei tende ad essere costanti ma anche perché non capisce, non ha una diagnosi, non sa che cos'ha e quindi per quanto possa sembrare abbastanza deprimente anche come storia, in realtà io l'ho trovata molto, non saprei come dire, ma in certi punti era quasi divertente e in ogni caso molto travolgente, molto improntata a farti conoscere questa persona, a farti entrare nella sua vita e nella sua testa e soprattutto il ruolo della scrittura che ritorna sempre, insomma, nei varie fasi della sua vita, mi hanno reso un romanzo veramente interessante che vi consiglio appunto se non era dovrebbe uscire in italiano. Successivamente mi sono buttata su Great Circle che è un bel tomo, sono quasi 600 pagine e ho un po' di pensieri contrastanti su questo libro. Allora, la premessa è questa, ci sono due linee temporali, una segue la vita di Marian Graves che è una avviatrice nata all'inizio novecento mi sembra, la quale decide ad un certo punto di percorrere appunto in aereo questo Great Circle, cioè la circonferenza più grande che si possa fare circondavigando in un certo senso la terra, insomma c'è una mappa per farci capire, perché spiegata da me non è proprio chiarissimo, però comunque. Questo avviene nel 1950 e sappiamo già dalla pagina 1 che in questa occasione Marian muore, scompare, via, non si sa più niente di lei. La seconda linea temporale è più o meno i giorni nostri, mi sembra sia nel 2015, in cui una giovane attrice di Hollywood deve interpretare la parte di Marian in una sorta di biopic. Allora, la parte riguardante Marian è sicuramente quella che mi è piaciuta di più, perché si parte proprio dai suoi genitori, quindi si ha questa sorta di albero genealogico in un certo senso in cui vediamo da dove viene e non solo, nel seguire un po' la storia della sua vita, vediamo anche la vita di suo fratello gemello, di un loro amico. Le descrizioni dei luoghi sono bellissime, sembra proprio di vedere questa natura incontaminata, loro vivono, mi sembra in Montana, non mi ricordo, comunque in quest'area con boschi, loro vivono appunto a contatto con la natura in un certo senso e vivono con lo zio perché i genitori, la madre è morta e il padre non si sa bene che fine abbia fatto. Marian ovviamente, essendo una donna, incontra tutte le difficoltà del caso, soprattutto per l'epoca, quindi si veste da uomo quando è una ragazzina per cercare di lavorare e vuole imparare a volare e da lì insomma comincerà a fare certi compromessi in un certo senso per poter raggiungere il suo obiettivo. Come dicevo, parallelamente seguiamo la vita di suo fratello gemello che scopre di avere un talento per la pittura e il loro amico Caleb che è figlio di una prostituta locale e che è uno di quelli che fin da piccolo insomma si vede che sarà di quelle persone che amano stare un po' per i fatti loro e autosostenersi, diciamo così. Il problema è che secondo me questa parte appunto ha un grande crescendo perché ovviamente andiamo avanti negli anni, la vediamo crescere, c'è il proibizionismo, quindi ci sono una serie anche di aspetti storici interessanti che vengono intrecciati, le relazioni con le altre persone eccetera. Poi però ad un certo punto è come se si raggiungesse una sorta di plateau, secondo me più o meno quando comincia la seconda guerra mondiale e lì sembra quasi che la scrittrice si sia trovata ad avere tanto materiale, a dover fare dei tagli e quindi non lo so, c'è come un momento in cui secondo me si percepisce questa cosa. Però ecco, in un certo senso ci si può passare sopra. Il vero aspetto che non mi è piaciuto tanto, per questo dico sono un po' indecisa su quanto mi piaccia questo libro o meno, è la parte ambientata ai giorni nostri perché l'attrice è un personaggio estremamente prevedibile, è proprio una macchietta. Cioè se dico giovane attrice che ha recitato in una sorta di Twilight, diciamo, per intenderci, super giovane, diventata famosa con l'equivalente di Disney Channel o Nickelodeon, quello che volete, voi già sapete la parabola, capite già che tipo di persona sarà, cosa come la tratterà la stampa eccetera. Quindi essendo così in un certo senso prevedibile, non mi attirava molto, cioè mi aspettavo un certo tipo di trattamento nei giorni nostri, non so bene come spiegare. Alla fine sono stata contenta di leggerlo, però appunto secondo me, forse un po' di editing in più, non saprei, però ha questi difetti, quindi vi metto in guardia, però se vi piacciono i romanzi un po' storici, dove appunto lo sviluppo del carattere del personaggio è l'aspetto principale, sicuramente vi potrà piacere. Poi ho cominciato, non ho ancora finito però, a leggere The Sentence di Louise Edrich. Io non conoscevo questa autrice, ho scoperto che è nativa americana e non credo di aver mai letto nulla, quindi è una pecca mia, però sono contenta di recuperare. Questo romanzo per adesso mi sta piacendo tantissimo, sono appunto più o meno a metà. Qui vediamo la nostra protagonista Tuki, che vive in Minnesota e anche lei, come appunto l'autrice è nativa americana, e si ritrova in una situazione non proprio positiva, nel senso che per una serie di motivi viene condannata a una sentenza molto importante, quindi finisce in prigione, in sintesi, però riesce a non solo uscire prima, ma a sopravvivere, diciamo, a questa esperienza traumatica, grazie a un dizionario che le viene regalato da una sua vecchia insegnante delle superiori e tramite appunto il dizionario e la lettura, lei appunto in un certo senso si isola mentalmente da quello che sta vivendo e quindi esce non così traumatizzata, ecco, come avrebbe potuto uscire. Una volta uscita, ha la possibilità di lavorare in questa libreria e la cosa che mi fa morire è che il nome della libreria è il nome della libreria gestito dall'autrice del libro, perché nella biografia appunto c'è scritto che lei ha anche una sua libreria e Louise è una, è la proprietaria della libreria anche nel libro, quindi già questo ritaglio mi fa morire, perché è un libro che è molto divertente in un certo senso e la premessa è che appunto tu chi arriva in questa libreria è bravissima a vendere libri, ha una memoria assurda per le trame, per addirittura anche delle frasi, quindi riesce a fare bene il suo lavoro, succede però che nella notte di ogni santi del 2019 la loro cliente più antipatica e irritante che nessuno sopporta muore e non ci sarebbe niente di male non fosse che questa questa cliente che si chiama Flora decide di perseguitare la libreria sotto forma di fantasma. In più il 2019, fine 2019 ovviamente vi farà pensare a ma arriva anche il coronavirus, sì, e appunto sono arrivata nel momento in cui comincia anche il covid, quindi sono curiosa di vedere cosa succederà e vi terrò aggiornati e niente, per adesso però comunque mi sta piacendo tantissimo, se la sta contendendo con Sorrow and Bliss sinceramente. Ci aggiorniamo quando l'ho finito e magari cominciato anche qualche cos'altro. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti.